E' nato praticamente senza vita. Ho detto all'inverniera, dammi preparami subito una fiala di adrenalina. Io l'ho fatta intracardiaca e il bimbo è risuscitato ed è stato un bellissimo ricordo. E l'emozione del dottore Mario Rizio di Ascea durante la cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi presso il Grand Hotel Salerno per l'annuale momento di celebrazione dei 40, 50 e 60 anni di laurea dei medici iscritti all'ordine. A ricevere la medaglia ricordo per i 50 anni, quest'anno anche il medico Rizio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il dottore Mario Rizio, nato ad Ascea, si è infatti laureato in medicina e chirurgia a Genova nel febbraio del 1969 ed ha iniziato a lavorare nell'ospedale cilentano a giugno dello stesso anno. Ha partecipato all'apertura del reparto di pediatria nel 1975. Dal 1977 aiuto pediatra e facente funzione di primario. Il dottore Mario Rizio è stato poi primario incaricato di pediatria e neonatologia dal 1995 al 2003, anno in cui ha lasciato l'attività ospedaliera. Ancora nel 2007, per il suo impegno, ha ricevuto dal presidente napolitano il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Una vita dunque condivisa e vissuta per la sanità per i bambini e per l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A 50 anni dalla laurea è emozionato il pediatra Mario Rizio, che ricorda tutto quello che ha fatto, in particolare un episodio accaduto in ospedale. Il ricordo principale, commovente, quando mi nacque un bambino, allora eravamo in pochi e sicuramente nelle sale parto, è nato un bambino di un chilo e quattro, pretermine, praticamente mi è nato morto, ma questo è circa 30 anni fa, è nato praticamente senza vita. Ho detto all'inverniera, dammi preparami subito una fiala di adrenalina, io l'ho fatta intracardiaca e il bimbo è risuscitato ed è stato un bellissimo ricordo.